Un confronto con professionisti rappresentanti degli ordini professionali di Crotone sul sostegno all'avvio di giovani imprese attraverso le opportunità offerte dai percorsi che promuovono l'autoimpiego come quelli sul microcredito. All'iniziativa hanno preso parte il docente universitario Alberto Padule, responsabile regionale dell'ente nazionale microcredito Antonello Rispoli, l'avvocato Alberto Laratte, il capogruppo di Fratelli Italia in Consiglio regionale Filippo Pietro Paolo, oltre rappresentanti dei diversi ordini professionali. Nella provincia di Crotone ad oggi abbiamo dei numeri che sono molto a di sotto delle potenzialità, su 1100 ragazzi calabresi che hanno partecipato ai percorsi di start-up Calabria, solo 56 vengono dalla provincia di Crotone, c'è molto da fare. Per Alberto Padule è necessario far partire nel capoluogo pitagorico proprio uno sportello informativo sul microcredito. Il territorio crotonese ha bisogno di un lavoro, sicuramente ha bisogno di un lavoro in più, perché il territorio crotonese nell'ambito del microcredito è ancora poco rappresentato, quindi ci faremo parte attiva affinché gli ordini professionali, il comune di Crotone e comunque tutti i soggetti che possano essere interessati partecipino quantomeno alla creazione di uno sportello informativo. L'avvocato Alberto Laratta del foro pitagorico ha sottolineato che l'accesso al microcredito per i professionisti e gli avvocati è una concreta opportunità di crescita. E soprattutto rappresenta quel passaggio fondamentale dall'avvocato tradizionale al cosiddetto avvocato 2.0, quindi che tende a digitalizzare il tutto, a far parte di un network, ad ampliare la rete e soprattutto le proprie conoscenze e il modo di fare l'avvocato che si diversifica in buona sostanza dall'avvocato tradizionale. Nel suo intervento conclusivo Filippo Pietropaolo ha evidenziato che la regione ha il compito fondamentale di dare sostegno alle start-up giovanili, accompagnando e supportando anche finanziariamente la nascita di nuove iniziative e di creare le infrastrutture al servizio delle aziende.